Come gestire i cambiamenti di un database? Ciao, io sono Michele e in questo episodio parliamo di come puoi gestire l'evoluzione del tuo database per ridurre i tempi di downtime e dare la migliore esperienza possibile ai tuoi utenti finali. Gestire i cambiamenti di un database è spesso una fonte di rischio e una fonte di problemi quando andiamo a gestire i deployment. Molto spesso l'evoluzione della nostra applicazione porta con sé o a bisogno di un'evoluzione dello schema del database che gestisce e persiste i suoi dati. La gestione del database change management è un'altra delle pratiche individuate nel Dora Core Model affinché un team possa capire quali sono le pratiche tecniche dei top performer. Ecco quindi che è importantissimo gestire nei nostri processi, nei nostri strumenti, nelle nostre strutture, nel nostro modo di operare la gestione dell'evoluzione di un database altrimenti ci ritroviamo con la parte dell'applicazione, con la parte dei binari che è totalmente automatizzata e allo stato dell'arte ma dall'altra parte ci ritroviamo con un database che invece deve essere gestito a mano con script lanciati a mano da IDBA in produzione e non è questa la situazione che vogliamo. Altrimenti tutto l'investimento che abbiamo fatto lato applicazione non vedrà realizzato il suo pieno potenziale perché deve sostanzialmente aspettare la parte del database che rimane più indietro, che non è trattato allo stesso modo. Allora vediamo quali sono delle pratiche che possiamo mettere in piedi per portare il database, la gestione dell'evoluzione del database allo stesso livello dell'applicazione. La prima cosa che dobbiamo fare quando si tratta di gestire il database, la cosa assolutamente numero uno è avere lo schema del database nel source control, quindi schema db in source control. lo mettiamo così, ecco, a pari delle applicazioni, quindi nel nostro repository avremo una cartella src dove tipicamente ci sono i sorgenti della nostra applicazione, potremmo avere qui dentro una cartella db schema oppure, a seconda di come decide il team, potrebbe essere una cartella separata a un livello superiore, potrebbe essere db schema. forse riesco a scriverlo bene, eccolo qua. E qui avremo tutta una serie di, a seconda dei tool che utilizziamo, ce ne sono ormai tantissimi sul mercato, avremo una struttura di file, tipicamente file.sql.sql, che vanno a rappresentare, contengono tutte le istruzioni che permettono di descrivere lo schema del nostro database, quindi, che ne so, se il nostro database ha n tabelle, diciamo tre tabelle, la classica utenti, ordini e così via, ci sarà un file utenti.sql, ordini.sql e così via, con al loro interno tipicamente troveremo quelle che sono le istruzioni di create table, utenti, puntini, puntini, con tutta la definizione delle colonne. Quindi la prima cosa da fare è avere uno, dotarsi di uno strumento, ce ne sono tanti ormai nel mercato, che ci permette di gestire, di analizzare lo schema del nostro database e averlo nel repository come first class citizen, nello stesso modo in cui abbiamo i sorgenti. Una volta che abbiamo a disposizione lo schema del nostro database all'interno dei repository, molto spesso questi tool stessi che noi abbiamo utilizzato per estrarre lo schema del database permettono di fare quella che io chiamo una compilare, come una compilazione, compilare il database, cioè vengono presi tutti questi script all'interno della nostra cartella e vengono esaminati per vedere se il database che ne risulta è un database valido. Quindi ad esempio vengono fatti dei controlli per dire guarda che questa definizione di vista punta a una tabella che non esiste o una colonna che non esiste, un po' come fa il compilatore di un linguaggio che ti dice guarda che questa proprietà o questo metodo non è presente in questa classe. Questo sblocca enormi vantaggi perché permette di beccare in anticipo, appunto come fa un compilatore dei sorgenti, eventuali problemi di inconsistenza del nostro database, uno schema non valido. Inoltre una volta che abbiamo questo schema abbiamo la possibilità di ricostruire il nostro database per ogni scopo che ci possa venire in mente perché ci possa essere utile. Immaginiamo ambienti di test effimeri dove vogliamo creare un database, popolarlo con dei dati e poi distruggere, buttare via, creare al bisogno. Abbiamo quindi la possibilità di ricostruire il nostro database da zero senza dover fare un backup e un restore da quello che è magari un ambiente di produzione dove poi mascherare dei dati oppure tutte le complicazioni del caso di gestire appunto dei backup e dei restore veri e propri. Quindi questo sblocca delle possibilità enormi e fantastiche anche nel mondo del database e soprattutto orientato al testing. Una volta che abbiamo questo che è già un enorme, un fantastico risultato, dobbiamo passare quello che è gestire l'evoluzione, l'evoluzione del database. Il che significa appunto come dicevamo in apertura che il nostro database cambia, evolve per stare dietro ai requisiti dell'applicazione o anche perché facciamo delle ottimizzazioni e quindi ci sono colonne che compaiono, scompaiono, nuove tabelle e così via. Come si gestisce questa evoluzione? Come facciamo? Allora tipicamente all'interno del nostro repository, fonte di verità assoluta del nostro progetto dove deve essere incluso tutto quanto ci sarà da qualche parte una cartella che si chiama db migration script database migration scripts. A seconda della tecnologia che noi utilizziamo, entity framework, i migration script per esempio o altre tecnologie possiamo scriverli a mano a seconda del nostro stack tecnologico, viene fuori che all'interno di questa cartella noi avremo una serie di script numerati, tipicamente magari sono in un numero così, 1.sql o magari possono essere anche 001, poi con un trattino direi anche descrivere rapidamente il cambiamento introdotto, per esempio customers per dire che questo migration script lavora. Abbiamo una serie di questi script che vanno a rappresentare l'evoluzione del nostro database. Ecco che nel tempo noi andiamo a costruire, a collezionare questi script che possono essere eseguiti in sequenza, magari i primi creano appunto la struttura del nostro database e poi mano a mano ne rappresentano l'evoluzione, aggiunta colonna, rimozione colonna, aggiunta trigger, tutto quello che serve. Noi abbiamo quindi questa collezione che questo pacchetto di migration script, immaginiamolo così, migration script, immaginiamo una pipeline che prende questa collezione di migration script e li esegue su un database. A questo punto però noi dobbiamo avere un sistema che ci permetta di ricordarci in un dato database fino a dove siamo arrivati. Ecco che molti strumenti presenti sul mercato che permettono di applicare appunto questa tecnica degli script di migrazione e di evoluzione del nostro database creano una tabellina nel nostro database che si chiama migration, di solito qualcosa di questo tipo, si chiama migration e si tiene tra dove viene tenuta traccia di quale, fino a quale script siamo arrivati. Quindi per esempio possiamo trovare scritto 0001.sql e ci mettiamo la data di, che ne so, ieri 010324. Poi oggi creiamo questo script 0002.customer.sql. Quando lo portiamo nella nostra pipeline, lo facciamo eseguire da questi tool. Il tool si ritroverà a disposizione tutti gli script, ma saprà che dovrà andare dall'1. L'1 non lo dovrà eseguire perché lo trova scritto qui dentro e quindi partirà dal 2. Eseguirà lo script 2 e una volta che l'ha eseguito con successo scriverà 002 trattino customers.sql. Ci mette magari una data 020324 in maniera tale da segnare appunto che questa evoluzione del database è stata applicata e il prossimo giro non dovrà essere applicata di nuovo. Ecco quindi che abbiamo un modo per fare evolvere il nostro database, tenere traccia dove siamo arrivati. Ovviamente questi script dovranno essere studiati dal team di sviluppo insieme ai DBA perché i DBA dovranno avere delle accortezze tipo per fare evolvere il database in maniera furba e facciamo un piccolo approfondimento. Che cosa intendo? Intendo che se tra i nostri requisiti di business ci dobbiamo avvicinare a dei deployment zero downtime, cioè che non creano disservizio o proprio disservizio di qualche decimo di secondo o secondo, quindi sostanzialmente avvicinarsi allo zero e non fare quelle famose pagine il nostro servizio non sarà disponibile da quest'ora a quest'ora per aggiornamenti, l'evoluzione del database deve andare di pari passo e essere supportata da un'architettura della applicazione. Quindi se vogliamo davvero fare continuous delivery e il business ha bisogno di zero downtime dobbiamo essere un pochino più furbi. Per esempio dobbiamo disaccoppiare i cambiamenti del database dai cambiamenti dell'applicazione. Che cosa intendo? Per disaccoppiare i cambiamenti dell'applicazione dal database? Per esempio dobbiamo adottare un approccio, potremmo adottare un approccio che impedisce o almeno in un primo momento non va ad alterare le strutture esistenti del database ma semplicemente aggiunge parti nuove. Quindi invece immaginiamo di avere una colonna che si chiama address e dobbiamo spaccarla in due, address1 e address2. Quello che andiamo a fare non è cancellare la vecchia colonna address, ok, e subito sostituirla con address1 e address2. Ma quello che andiamo a fare è prima aggiungere queste colonne e poi in un secondo momento più avanti in iterazioni successive andare a togliere la colonna address. In questo modo che cosa possiamo fare? Una nuova versione dell'applicazione potrà chiedere, potrà rendersi conto di quale schema del database ha a disposizione e quindi capire dove andare a leggere i dati ed eventualmente andare anche a popolare indirizzo 1 o indirizzo 2 nel caso fossero vuoti. Per esempio quindi io eseguo una nuova, la mia nuova versione dell'applicazione che cerca di leggere i dati da indirizzo 1 e indirizzo 2 ma sono vuoti quindi andrà a leggere i dati da qui e magari anche nel frattempo una volta che li ha letti va a popolare indirizzo 1 e indirizzo 2 così alla volta successiva i dati saranno trovati qui. In questo modo facciamo quella che è una migrazione lazy cioè pigra dei dati a carico dell'applicazione stessa e non a carico dei migration script che magari dovranno fare dei lock pesanti soprattutto su tabelle di grosse dimensioni. In questo modo l'evoluzione dell'applicazione e del database viaggiano un po' disaccoppiate tra di loro. Quando ci accorgeremo perché che ne so avremo delle query o con l'aiuto dei DBA che address 1 e address 2 saranno completamente popolati allora potremo fare dei successivi migration script ed evoluzioni dell'applicazione per andare a rimuovere definitivamente questa colonna. Questo argomento, questa tecnica è solo una delle tante, è solo un accenno. È stato scritto un bellissimo libro a riguardo che si chiama Refactoring Database di Scott Hambler. Quali sono i comuni errori, i comuni antipattern che si vedono nella gestione dei database in modalità DevOps e così via o nelle aziende? Di solito i team dei DBA sono un team separato dai team applicazione e ragionano un po' da gatekeeper, hanno i loro processi, i loro metodi e così via. Quello che io consiglio invece è di cercare di fare integrare il più possibile i database, i DBA con il lavoro dei developer andando a unificare i metodi di lavoro e coinvolgerli sempre più frequentemente e soprattutto in anticipo magari nelle fasi di sviluppo, di progettazione e di evoluzione dei requisiti che riguardano e che andranno a toccare il database. Gli ostacoli tecnologici magari fino a un bel po' di anni fa c'erano ma ormai le tecnologie sono super mature, abbiamo a disposizione tantissimi framework o strumenti gratuiti a pagamento che ci permettono di realizzare le tecniche viste prima di Migration Script e avere i sorgenti del database nel repository e così via. Quindi è più che altro un approccio culturale e architetturale da gestire. Tutto questo può sembrare complicato in effetti lo è perché la persistenza del dato è sempre un argomento molto delicato ma la buona notizia è che ormai tutto è maturo e si può raggiungere un'effettiva automazione al 100% dei processi riguardanti il database allo stesso modo della sua controparte applicativa. Bene per oggi con le pratiche del Dora DevOps Model abbiamo visto il database change management. Ci fermiamo qui se da questo video hai imparato qualcosa oppure ti è piaciuto mi raccomando metti un mi piace e iscriviti al canale così sarai notificato sulle prossime uscite ciao chanzo Grazie a tutti.